Secondo Strada dei Parchi, dopo la caduta dei calcestruzzi sul viadotto dell'A24 che insiste sul quartiere Aquilano di San Giacomo, non ci sono criticità. Ieri, operai e tecnici della concessionaria Strada dei Parchi sono stati al lavoro per rimuovere i calcinacci che secondo loro erano pericolanti. L'operazione è iniziata nella mattina e via Gabriele Rossetti nel pomeriggio era già tornata alla normalità. Sul posto l'architetto Vittorio Perrotta, gli ingegneri Fabio Padovano e Gabriele Nati, l'ispettore di Cantieri, il geometra Pasquale Vitare. L'ingegner Nati ha detto che a prima vista l'ammaluramento può far pensare al peggio, ma in realtà ha sostenuto i cittadini devono star tranquilli perché non si è trattato di un vero e proprio intervento. Il problema non è di natura strutturale, dunque la staticità non è compromessa. I primi ad intervenire sono stati i Vigili del Fuoco che hanno riportato poi una relazione dettagliata alla Prefettura, al Comune e a Strada dei Parchi. Loro in realtà nel loro verbale parlano anche di ferri ossidati che sono proprio a vista e della necessità dunque poi di intervenire con dei lavori. I tecnici del Ministero hanno riconosciuto la necessità di intervenire su alcune opere. Anche il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, in adizione alla Camera, ha spiegato che bisognerà intervenire e in vista dell'allungamento dei tempi per il perfezionamento del nuovo PEF, si sta pensando, il Governo lo sta facendo, di provvedere con un provvedimento normativo ad hoc. Il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi intanto ha tonato contro la gestione delle infrastrutture. Ha parlato di un Paese che cade a pezzi la conseguenza delle modalità di gestione delle infrastrutture pubbliche in questo Paese. Si pensa sempre, ha detto e non mi riferisco solo a strada dei parchi, che il privato sia la soluzione a tutti i mali. Intanto si tagliano fondi agli enti pubblici e si scaricano su di loro le responsabilità a fronte di una diminuzione delle risorse. Il Sindaco Biondi già aveva scritto alle autostrade per conoscere lo stato di salute di ponti e viadotti in territorio aquilano. Ramadori aveva risposto che la situazione era tranquilla, i ponti e i viadotti erano monitorati, certo questo in assenza di terremoti.